bella a tutti asfaltoni benvenuti su leon tube e su a9 itaswitch eccoci col secondo round pista al porto secondo round termina tra due giorni andiamo a vedere i premi allora derapa per 250 metri andiamo a prendere fino a 20 gettoni mi sembra opportuno dare spendere 50 gettoni per prenderne 5 giustamente però per saltare per poi arrivare ai due progetti finali abbiamo tre pacchetti speriamo bene in cui poter trovare i progetti della f8 falcon edition e 80 mila 80 scusate fino a 120 mila crediti andiamo a vedere la pista facciamo subito tutti e 5 i tentativi buenos aires la pista quindi andiamo a vedere primo giro da registrare sappiamo stiamo facendo il looper pricks quindi andiamo a vedere il primo giro utile vista 2184 metri a direttore a direttore a direttore Allora andiamo a vedere il tempo da battere Era di, non l'avevo visto Di 42 Quindi diciamo comunque per prendere i premi ci siamo Andiamo a vedere cosa troviamo Qui bisognerà stare sul 37 almeno per fare un tempo discreto E niente di buono Comunque ne abbiamo qui 4, qui 2 in totale 8 pacchetti Andiamo a vedere cosa riusciamo a prendere La missione, il compito è un po' più complicato Può essere quella di derapare ma con tutti i curvoni finali 250 metri non sono poi tanti per derapare Andiamo a fare il secondo tentativo Allora andiamo a fare il secondo tentativo E uno infatti un secondo e uno quasi Migliorato Andiamo a vedere cosa troviamo Nei pacchetti Abbiamo trovato un progetto buono E andiamo avanti Ancora due pacchettini Speriamo ovviamente sempre di trovare progetti Per poi potenziare l'auto Possiamo potenziarla anche nel negozio Ci sono i pacchettini Eccoli qua Pacchetto 5 pacchetti a 350 gettoni In cui è garantito almeno Un progetto in vetrina Quindi almeno 3 progetti Oppure come abbiamo fatto già vedere Negli altri video Sempre 5 pacchetti ma 4,50 ma qui abbiamo la possibilità Di trovare direttamente la chiave E quindi lì potete potenziare la vostra auto Andiamo a fare ancora le gare Per sbloccare le condizioni 8,50 ma qui Ok, è guardato 3,50 ma qui Ok, è guardato Ok, è guardato ok importante era quello, ah sono quattro, perfetto abbiamo preso anche questi premi quindi dovremmo riuscire a sbloccarli tutti, andiamo a fare il quarto tentativo abbiamo migliorato ulteriormente, due tre decimi, sei decimi in tutto, 39,5 abbiamo completato tutti i premi, portiamo l'auto almeno a 16 progetti vediamo se troviamo il pacchetto, ok va bene lo stesso e la portiamo a 16 di 35, ce ne mancano 19 ancora per portarla al massimo andiamo a fare l'ultimo tentativo allora non vi faccio un bel mi piace, quindi dentro i vostri amici nei vostri social non dimenticare di lasciare un commento e come sempre se vi va vi invito a iscrivervi al nostro canale e non dimenticare di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti